Torna a Treviso la fiera Quattro Passi, un'occasione unica per la scuola. L'edizione 2018 dedicata alle generazioni in viaggio è stata preceduta da un grande evento che ha coinvolto contemporaneamente nel centro storico di Treviso oltre mille ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Treviso e dei comuni limitrofi. Le novità di quest'anno, il tema scelto è quello di pensare ai giovani che si muovono, si muovono fisicamente ma si muovono anche mentalmente, sono veramente la grande risorsa della nostra città, ma direi, se non voglio esagerare, della nostra civiltà. Abbiamo bisogno di questi ragazzi che comincino da subito a pensare non solo al loro avvenire ma all'avvenire di tutti noi, abbiamo bisogno delle loro energie. Fiera Quattro Passi ha intercettato perfettamente questo bisogno. Noi abbiamo organizzato una giornata proprio dedicata ai ragazzi delle medie e ne abbiamo chiamati mille da tutte le scuole praticamente di Treviso e anche della provincia di Treviso e le abbiamo divisi in due gruppi. Un gruppo è andato a vedere uno spettacolo sull'emigrazione al teatro comunale, un altro gruppo invece ha partecipato, diviso in 20 classi, a 20 laboratori, organizzati proprio dagli espositori della Fiera Quattro Passi. Nel momento in cui è cambiato il turno, cioè quelli che andavano al laboratorio, poi sono andati al teatro e viceversa, li abbiamo radunati tutti e mille in Piazza dei Signori per fare un flash mob organizzato tra l'altro dai ragazzi delle scuole superiori, perché abbiamo lasciato tutto in mano ai giovani in questo momento e quindi i ragazzi delle superiori dell'alternanza scuola lavoro e della scuola ricatti di Treviso hanno organizzato il flash mob in cui i ragazzi, tutti e mille, hanno realizzato la bandiera della pace in centro a Treviso in Piazza dei Signori. La Fiera Quattro Passi con i suoi 60.000 visitatori nell'ultima edizione è uno degli eventi più importanti a livello nazionale nel panorama dell'economia sostenibile, caratteristica distintiva e il carattere pratico delle sue proposte, consigli che ogni cittadino può adottare nella vita di ogni giorno per costruire un'economia più giusta e capace di futuro. Ma è anche una grande festa organizzata nei due weekend del 12, 13 e 19 eventi maggio prossimi con spettacoli, concerti, attività per bambini e per le famiglie, e degustazioni, oltre 150 espositori e 100 eventi culturali. Tutto a ingresso gratuito in un grande parco chiuso al traffico.